Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Ginestro Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Rallentamenti per lavori tra Empoli e San Miniato in direzione Livorno. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina in via di San Leonardo a Firenze è in corso il ripristino di un muro privato. Fino a martedì la strada resterà chiusa da via Viviani al numero civico 61. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!